Il disc cooler è un pezzo di alluminio alettato posizionato sul supporto del freno delle bici in fibra di carbonio. Il dispositivo di raffreddamento del disco serve ad allontanare il calore dalla pinza del freno rapidamente. Il disc cooler contribuisce così a far funzionare i freni al meglio anche nelle lunghe discese, trasformando efficacemente l'energia cinetica del movimento in energia termica attraverso l'attrito della pastiglia sul rotore. Se le pastiglie e il disco si scaldano, le prestazioni di frenata possono diminuire drasticamente. Mentre un telaio in alluminio conduce il calore lontano dalla pinza del freno, il carbonio non lo fa. Porta a una situazione dove i freni possono iniziare a surriscaldarsi durante una lunga discesa, perché il solo flusso d'aria non riesce a trasferire il calore velocemente, soprattutto con i rotori di diametro ridotto che si trovano generalmente sulle bici da strada. I nostri test hanno dimostrato che il disc cooler può effettivamente ridurre le temperature delle pinze di circa il 35% in alcune configurazioni, il tutto senza interferire con la capacità di manutenzione dei freni.